Due turbine da neve, due sgombra neve corredati di lama e spargisale entrati a far parte del parco mezzi della regione Abruzzo sono stati consegnati oggi nel corso di una cerimonia simbolica che si è tenuta nella sede della tua di Pescara alle quattro province per le operazioni di contrasto al maltempo, soddisfatto il governatore della regione Luciano D'Alfonso. Per ordinamento noi non ci dobbiamo occupare di viabilità, men che meno di neve sulla viabilità, però conoscendo la sofferenza dei livelli territoriali istituzionali non potevamo guardare dall'altra parte e organizzare i concerti musicali. Abbiamo attivato una solidarietà anche finanziaria ad altri livelli, per esempio con Enel per quanto riguarda i generatori di corrente e con Terna l'acquisto di questi mezzi per fronteggiare le emergenze della neve e su questo fronte abbiamo fatto patto con le quattro province concordando un mezzo per ogni provincia tenendo da conto i valichi difficili, i chilometri di viabilità, la montuosità e anche la più o meno vicinanza dei mezzi di ANAS in caso di emergenza. Alla luce di questa riflessione abbiamo concordato quali sono le province che si prendono quali mezzi con particolari dotazioni. Abbiamo trovato anche la collaborazione del Consiglio regionale che nei fatti mi ha dispiegato una flessibilità che non abbiamo sempre visto. Io spero che davanti alle emergenze si fermi la politica e vada in onda soltanto l'agenda delle cose da fare. In America, in Germania e così, davanti alle emergenze si ferma la parzialità della politica e entra in campo soltanto l'ordinamento. Nel corso della cerimonia non è mancato un accenno del Presidente della Regione alla grave ondata di maltempo dello scorso anno e alla disponibilità di mezzi antineve 12 mesi fa. L'anno scorso hanno provveduto le province così come da ordinamento. Noi l'anno scorso, come due anni fa, abbiamo dato una mano economica alle province per quanto riguarda i famosi 550 mila euro che da ogni anno, durante questa legislatura, riusciamo a dare alle province, sapendo che non abbiamo obblighi su questo fronte. E la Regione non è né l'ONU né la Catalogna, né prima né dopo il referendum. Noi abbiamo un bilancio di 3 miliardi veri di euro e su questi 3 miliardi di euro 2 miliardi 830 se ne vanno per garantire i servizi e il welfare della sanità.